...vedervi, ti do un abbraccio globale, per me è sempre importante venire qui, la Cotavo rappresenta un punto fermo, perché io verso Davide avevo 20 anni, ma con Davide ci sono tutte le vittime delle stragi e se noi li ricordiamo è come se li facessimo rivivere, dobbiamo farli rivivere e farli rivivere anche con gioia, loro avrebbero voluto essere contenti, avrebbero voluto amare, vivere, essere qui con noi, non ci sono ma ci sono lo stesso e per questo ringrazio tutti quelli che sentono, che sono qua e che vogliono partecipare e dire sì, io ci sono, ciao Davide, ciao ai bambini della strage, ciao ai pompieri di Via Palestro, alle vittime di Piazza Fontana, della loggia eccetera, noi siamo qui per ricordarli, per ricordarli tutti e ricordarli con affetto, grazie a tutti quanti, grazie per esserci.